Potenziare la medicina del territorio dando ai medici di medicina generale gli strumenti per operare in maniera più efficace a beneficio dei pazienti e dell'organizzazione complessiva del sistema sanitario regionale. È l'obiettivo del preaccordo integrativo firmato dalla regione Puglia con i sindacati dei medici di base nel solco dell'accordo collettivo nazionale. Un'intesa che arriva dopo oltre un anno e mezzo di contrattazione con rivendicazioni precise da parte dei medici di famiglia che denunciavano le difficoltà di operare soprattutto a causa dell'eccesso di burocrazia che grava sul loro lavoro a scapito dell'attività di prossimità verso i pazienti. Ma cosa cambia con questa preintesa che verrà perfezionata entro aprile? Lo spiega il segretario regionale della FIMG, il Salentino Antonio Giovanni De Maria. Abbiamo visto finalmente riconosciuta la validità del modello organizzativo della medicina generale pugliese che abbiamo sostenuto e per il quale ci siamo battuti in questi anni. La preintesa avvia una fase di forte innovazione organizzativa della medicina generale, un accordo quindi che dà una prospettiva anche ai giovani medici che avranno al momento dell'ingresso nella professione un collaboratore di studio, nonché supporto economico per l'innovazione tecnologica e organizzativa. Innanzitutto i fondi. Saranno stanziati circa 10 milioni in più rispetto agli attuali 32. Serviranno ad ampliare orari e servizi per i pazienti che si rivolgono ai medici di famiglia e adotare gli ambulatori di personale tecnologie, un collaboratore segretario di studio, un infermiere a disposizione, il sostegno economico per l'innovazione tecnologica. Al momento circa un terzo dei 2.800 medici di famiglia della regione non ha un collaboratore di studio. I medici di medicina generale saranno attori principali del percorso di presa in carico dei malati. Per farlo potranno avere a disposizione apparecchiature diagnostiche di primo livello, come ecografi, elettrocardiografi e spirometri. Ci sono circa 16 milioni di euro stanziati dal Ministero della Salute per la Puglia e la FIMG ha chiesto che vengano utilizzati. Altro punto chiave saranno le AFT, aggregazioni funzionali territoriali fra medici, collegate attraverso piattaforma per garantire l'apertura degli ambulatori dalle 8 di mattina alle 8 di sera, con 12 ore di assistenza continua. Ogni AFT, spiega il segretario FIMGio De Maria, in media comprende 20 medici e deve soddisfare una popolazione di circa 30.000 abitanti. La vera rivoluzione riguarderà poi la continuità assistenziale, perché le AFT verranno aggregate ai presidi di continuità assistenziale le vecchie guardie mediche, che non lavoreranno più in maniera a sé stante, ma opereranno a supporto delle aggregazioni dei medici di famiglia, garantendo assistenza dalle 20 alle 24. Le urgenze, da mezzanotte alle 8, saranno invece gestite dal 118. Questo aiuterà la presa in carico sul territorio dei pazienti, assicurando 16 ore di assistenza continua dalle 8 a mezzanotte e riducendo il numero degli accessi impropri che intasano il pronto soccorso.